Sono a casa! Mi aspettavo un benvenuto migliore. Non mi prendete? È un nuovo gioco. Volete spiegarmelo? Ciao, Lori. Quando sei arrivata? Lori? Qualcuno ha detto Lori? Ancora non ci posso credere. La mia piccola Lori Lou. E non è su uno schermo stavolta. È questo il benvenuto che mi aspettavo? Grazie, papà. Che cosa ci fai a casa, tesoro? Sono tornata solo per passare un po' di tempo in famiglia. Allora, che cosa facciamo oggi? Come va la scuola, Luna? Qualche problema? Delle novità con la band? Scusa, stiamo guardando il film. Possiamo parlarne dopo. Giusto, scusate. Volevo recuperare. Andrò a trovare Luan. Ciao, ragazzi. Che adorabili completini. Ah, sono prove di mimo. Non importa. Volevo parlare. Ci vediamo più tardi, credo. Quanti funerali hai fatto quest'anno, Lucy? A proposito, adoro il velo nuovo. Ci vediamo più tardi, le mie più sentite condoglianze. Finora questo weekend è un fallimento totale. Sono tornata a casa, ma mi sento più distante che mai. Sai cosa dice il coach Niblick? Se sei in difficoltà, regola il tuo swing. Ascolta, è bello che tu stia guadagnando con la raccolta delle citazioni di Niblick. Ma ora puoi dirmi cosa intendi? Perché non verifichi che tutti i tuoi fratelli siano liberi domani? Così potrete uscire insieme. Certo. Ottima idea. Ho programmato mille cose divertenti per questa giornata insieme. Oh, piccolo conflitto di orari. Ho un trattamento al viso al caviale più tardi. Che posso sicuramente spostare. Prima di tutto, un minigolf. Devi indirizzare la pallina un po' a sinistra della coda del dinosauro. Lola, non si tiene così la mazza per fare un pat? Ah, non è così difficile. Basta mandare la pallina verso il dinosauro grande. Sarà la fine dei dinosauri quando avrò finito di prenderti a calci, amico. Bella questa. Ascolta, mia sorella è una giocatrice professionista. Quindi smettila di mettere freddo o te la vedrai con me. Ah, quella era la mia maccia. Fammi indovinare. Vuoi che portiamo i nostri pat fuori da qui? Ah, fin troppe discussioni per oggi. Questo posto è perfetto. Possiamo chiacchierare, mangiare cibo del burgerrutto, prendere il sole. Non ci credo. Oh, Ben, dammi quei bucconcini di pollo. No, giù le mani sono miei. Se qualcuno tocca il mio brunetto di carne è finito. Se qualcuno tocca la mia insalata, è finito. Chi ordina un'insalata al burgerrutto? Non fate una... Lotta col cibo. Ehi, andiamo, ragazzi. Oggi avremmo dovuto avvicinarci. Invece stiamo... Facendo retromarcia. Sì, è esattamente ciò che volevo dire. No, stiamo davvero facendo retromarcia. Tranquilli, usciremo da qui. Cosa facciamo adesso? Voi spingete, io Guido. Sto camminando nel fango. Non c'è niente di più disgustoso. Spingete tutti quanti, morto! Credo di dovermi correggere. No, sei fortunato. Lo vuoi? Allora, prendilo! Lotta col fango! Prendi questo! Ragazzi, dateci un salto! Va tutto bene, Lori. Tireremo Vanzilla fuori dal fango. No, non fianco per quello, Lenny. Il weekend è stato un fiasco. Sono tornata per riallacciare i rapporti con voi e tutto va storto. Avevate tutti i vostri impegni e quando abbiamo passato del tempo insieme è stato un disastro. Mi sembra di non far più parte di questa famiglia, ormai. Cosa? È folle! Oggi non è stato un disastro. La definirei una normale domenica della famiglia Loud. Sì, sorella. Cosa c'è di più Loud che farsi cacciare da tutti i posti? O far finire Vanzilla nel fango. Anche se non sei con noi tutti i giorni, farai sempre parte di questa famiglia. Certo, anche nell'aldilà. Grazie, ragazzi. Avevo bisogno di sentirlo. Abbraccio di gruppo! No, no! Sono già sporca così! No, no! Oh! Ah! 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 Ah!